TITOLO IL PELOSO METLARIESE PASTICCIO DAL VETERINARIO AUTORE LENLY DOOLE GENERE RACCONTO DI FANTASIA Piccola descrizione. Gli imbrogli, dal veterinario. Giù dal veterinario. C'erano tutti i tipi, di animali domestici. Con guai e guai. Dalle orecchie, alle dita dei piedi. Tira su col naso e tira su col naso. E dosi di influenza. Proriti e punti. E anche mal di pancia. Tanti animali. Vigile e guardingo. E anche, la pelosa McLary. Dalla latteria di Donaldson. C'erano cani miserabili. Gatti irascibili. Un coniglio con i brufoli. E ratti rachitici. Topi con gli starnuti. Una capra infuriata. E Cassie, nella sua gabbia. Cassie, aveva gli artigli. E un fastidioso becco. Ha visto qualcosa contrarsi. Quindi? Gli ha dato un. Morso. L'ha tirato così forte. Che si è strappata un capello. E la pelosa McLary. Che ha saltato in alto nell'aria. Una ciotola piena di topi. Era impacchettato. Finì. E i topi, sono caduti fuori. Quattro pappagallini esigenti. Con nonna Goff. Volato fuori dalla loro gabbia. Quando il fondo è caduto. Chris Lee McDuff. Con una coda a scopolino. Saltò fuori dalla sua cesta. E oltre il binario. I gattini Poppadum. Da Quackinson Place. Sono schiacciato e aperto. La porta della gabbietta. E si unirono alla caccia. Parnico Beasley. Dimenticato che era dolorante. Borbottava e scherragliava. Tutto il pavimento. Poi Castardi Labrador. Muffin McWay. E Nudoli Barboncino. Deciso di giocare anche loro. Sbandavano e correvano. Scivolavano tatti intorno. E bottiglie e scatole. È crollato tutto. Che casino. Uno scalpiccio di zampe. Un groviglio di corpi. Un guazzabuglio di mascelle. Con strilli e unulati. E lugubri mi agonio. Stavano davvero facendo. Una fila terribile. È uscito il veterinario. Lo rimedierò adesso. Disse. Ma è inciampata al guinzaglio. E invece è caduto anche lei. Giser la capra. Sfiantato contro una gabbia. Ha sbattuto le sbarre. In una furia tonante. Cassie si è arrabbiata. Sbatté il becco. Ha visto. Qualcosa contrarsi. Così lei. Ha dato. A esso. Un. Morso. Grazie.